ciao a tutti e benvenuti in laboratorio per la serie selezionati per voi questa sera farò la recensione di due oggetti che possono essere molto utili una stazione saldante e un multimetro sono oggetti economici infatti prodotti da un costruttore che abbiamo già visto in passato gvda che si è specializzato proprio in questo segmento quindi un level entry infatti nei video 625 660 e 664 avevamo visto la recensione di altri due multimetri e un alimentatore da banco e quindi buona visione ecco qui gd318 stazione saldante e gd128 multimetro digitale di tipo smart cominceremo proprio con lui chi volesse andare al punto del video che parla direttamente della stazione saldante può seguire la timeline qui sotto su youtube il multimetro viene fornito in questa scatola direttamente con una custodia questa custodia ha un guscio semi rigido e quindi è abbastanza resistente a eventuali urti e può essere facilmente portata in giro nello scomparto di sinistra troviamo i puntali una termocoppia e un piccolo manualetto di istruzioni nella parte destra il nostro multimetro si sfila semplicemente tirandolo e risulta essere di un fattore di forma leggermente più grande rispetto all'ultimo modello che abbiamo visto che era quasi un cellulare la prima cosa che balza all'occhio rispetto ad altri multimetri visto in passato di questo tipo è la rispondenza alla normativa is 610 10 1 per gli standard di tensione indicati qui di seguito quindi cat 3000 volt cat 4 600 volt per prima cosa andiamo a rimuovere il guscio e svitiamo la vite posta qui sul pannello posteriore per accedere al vanno batterie andiamo a rimuovere il nostro pannello posteriore ecco andiamo a inserire tre pile a mini stilo da un volta e mezzo il bottone di accensione si trova sulla parte superiore ecco qua il boot questa volta gvda ha puntato sull'ergonomia infatti abbiamo un ampio display con scritte molto chiare e grandi e pochi tasti quindi veramente di semplice utilizzo è partita la funzione auto quindi per l'identificazione del tipo di misura da fare andiamo a collegare i puntali che mi sembrano ben realizzati quindi la qualità è accettabile il cavo è flessibile e li inseriamo nelle boccole che sono poste qui sotto alla base del nostro multimetro rimuoviamo i tappi sulla parte inferiore dei nostri puntali e anche i cappucci per avere accesso a tutta la parte metallica e poi li colleghiamo qui nella parte sottostante del multimetro cominciamo con una misura in tensione quindi andremo a mettere fra terminale comune e la lettera v abbiamo quattro boccole di ingresso quindi il comune poi le letture in corrente con fondo scala 10 ampere e la lettura parte invece tutte le altre misure se andiamo a portare i terminali in cortocircuito viene subito identificato identificato come ometro questa è la resistenza che viene portata a zero ohm se spingo e lo strumento si porta a ohm direi che abbastanza reattivo e anche il bip tra l'altro mi sembra un buon segnale acustico ecco qua una batteria andiamo a toccare i terminali misura immediata vedete velocissima 12.70 con anche indicazione della nostra barra grafica effettivamente direi che è molto reattivo effettuiamo la misura di una tensione alternata quindi come la tensione di rete sempre molta attenzione mi raccomando 214.5.8 qua abbiamo la frequenza la tensione un po bassa ma è questo normale perché nel mio caso ha un trasformatore di isolamento che adesso è in presa minima andiamo a vedere la stessa misura con un altro multimetro a maggior precisione chiamiamo in causa un fluc 289 a 50.000 conteggi visto in un passato video il 289 misura 216.259 quindi direi assolutamente in linea con quanto visto dal nostro multimetro un'altra cosa interessante è che questo multimetro è dichiarato true rms se ripeto la misura della 230 alternata vedete che compare l'icona true rms ac alternati questo significa che il valore rms misurato sarà affidabile anche nel caso di forme d'onda che siano molto distorte e quindi non solo quelle perfettamente sinusoidali ma altre forme d'onda con impulsi o anche presenza di armoniche potranno essere lette correttamente nel valore efficace nell'ambito delle tensioni pericolose questo multimetro è dotato della funzione ncv quindi rileva la presenza di tensioni pericolose senza il contatto per abilitare questa funzione andiamo sul selettore principale questo rosso che passa dalla modalità auto a tutte le altre funzioni e andiamo a selezionare l'ncv che si trova qui in fondo quindi viene indicato se adesso avvicino il multimetro alla sorgente di tensione vedete che qua sono a 5 centimetri dalla presa di rete e mano a mano avvicino e abbiamo un'indicazione del livello qua è stata identificata come alta tensione le funzioni rese disponibili da questo multimetro sono misura di tensione in continua o alternata ometro test di continuità ci viene ricordato che è in manuale vedete che poi in ogni misura abbiamo la scala graduata prova aggiunzione misura di capacità misura di piccole tensioni sia continue che alternate sempre contro rms misure di frequenza e duty cycle misura di temperatura in grade fahrenheit e celsius la funzione ncv che abbiamo appena visto e poi abbiamo le misure in corrente range miliampere e range ampere vedete che viene indicata la errata posizione dei terminali perché devono essere spostati sulla posizione amperometro con il tasto cell come sempre si va a selezionare continuo o alternato però lui non permetterà la misura fin tanto che non rileva la corretta posizione dei puntali il multimetro a 9999 conteggi e la funzione di power off simbolo di doppio isolamento e di marcatura si è tutta da verificare abbiamo le quattro boccole e quattro led che indicano come devono essere collegati i terminali a seconda della funzione infatti se spingo vedete che lampeggiano i led corrispondenti alle posizioni corrette a secondo della funzione che ho selezionato gli altri tasti presente a frontale sono la selezione del range di misura e questo avviene quando sono in manuale quindi posso decidere il fondo scala il tasto old che mi permette di congelare una misura o relativo che mi dà il delta rispetto a una misura memorizzata min max per la funzione di cattura del minimo del massimo e comunque ogni misura è sempre accompagnata dalla scala graduata per passare da una funzione all'altra basta cliccare sul bottone principale se voglio tornare in modalità auto smart tengo premuto per tre secondi e lui ci ritorna sul lato sinistro abbiamo il tasto per accendere la torcia che è un led e sulla parte destra abbiamo l'abilitazione della funzione auto power off quindi al momento abilitata visto che è indicato qui e quindi dopo 15 minuti di inattività il multimetro si spegne si può forzare spenta e quindi il multimetro rimarrà sempre acceso uno sguardo rapidissimo alle specifiche per le misure di tensione continua abbiamo cinque range che vanno dal range più piccolo di 99.99 mili volt con risoluzione 10 micro volt a range che arriva 999.9 volt con risoluzione 100 mili volt la accuratezza è il più o meno 0 5 per cento con tre count impedenza valore approssimativo 10 mega ohm per le misure in alternata abbiamo questi cinque range dove vedete che l'ultimo però arriva a 750 volt alternati accuratezza più o meno 0.8 per cento sempre tre count risposta in frequenza da 40 airs a un kilo airs true rms letture di corrente alternata e continua abbiamo quattro range di misura lo 0 8 per cento più tre count nel caso di misure fino a 600 mili ampere e l'1.2 per cento più tre count per il fondo scala 10 ampere le risoluzioni nel range più piccolo scendono fino a un micro ampere o un mili ampere nel caso del range massimo misura resistenza abbiamo sette range con un'accuratezza dell'un per cento più cinque count e nel caso del range a 99.99 mega ohm il 2 per cento più 10 count protezione overload 250 volt misura di capacità abbiamo otto intervalli di misura con un'accuratezza del 4 per cento oppure 5 nel caso di valori di capacità più grandi frequenzimetro abbiamo sette intervalli di misura con un'accuratezza dell'un per cento duty cycle misurabile dall'uno al 99 per cento temperature misurabili con la termocoppia da meno 40 gradi a mille gradi con accuratezza che vanno dall'uno al 5 per cento per verificare la precisione dello strumento prendiamo ora delle misure con termini di paragone il fluc 289 misuriamo un segnale alternato con un'ampiezza di 18 millivolt rms in realtà questo generatore di funzione quando indica così genera un valore doppio quindi 36 millivolt rms la frequenza di 500 hertz valore rilevato dal multimetro gvd a 36.18 millivolt 500 hertz misura di una resistenza di potenza valore nominale 18 ohm andiamo a vedere con la funzione auto smart 18.0 vediamo il fluc cosa rileva 18.28 misura di un condensatore da 15.000 micro farad andiamo con il nostro multimetro in modalità auto vediamo cosa accade questo viene rilevato come un cortocircuito allora andiamo a impostare la misura di capacità manualmente quindi ci mettiamo sulla funzione misura capacità e ripetiamo la misura ci metterà un pochino perché è un valore grosso di capacità e quindi lui adesso sta cambiando range è andato sui millifarad 21.81 millifarad cioè 22.000 micro farad valore molto alto rispetto al valore nominale quindi qua la tolleranza è un po' andata vediamo con il fluc quanto viene rilevato su questo grande valore di capacità anche il fluc mette un po 21.3 millifarad 21.5 quindi direi assolutamente congruente test lettura e corrente continua batteria 12 volt resistenza 18 ohm 5 watt il nostro multimetro in serie e poi nuovamente inseri il fluc lettura della corrente 657 milliampere 660 milliampere quindi come vedete è preciso anche sulla lettura in corrente continua bene e con questo si conclude la recensione del multimetro gd 128 di gvda a me ha convinto ed è il motivo per cui ve l'ho proposto in recensione per la funzione true rms l'ampio display colorato la semplicità e anche la robustezza quindi se vi interessa vi lascio il link in descrizione e adesso passiamo alla stazione saldante all'interno troviamo piccolo user manual pompetta succhi a stagno e ecco adesso andiamo a montare la nostra stazione saldante la gd 318 è una stazione saldante da 80 watt che permette di operare con delle temperature comprese fra 80 e 480 gradi celsius con questo bottone si può commutare in fahrenheit la stabilità di temperatura è di più o meno due gradi e la salita in temperatura è abbastanza rapida una volta impostato il valore di temperatura poi viene mostrata la temperatura attuale che come vedete sale abbastanza velocemente la stazione viene fornita con stagno e l'accessorio porta rullino abbiamo un po' di materiale per pulire la punta e cinque punte accessorie è compatta pratica e soprattutto economica la temperatura si controlla in maniera abbastanza precisa e vedete basta andare con delicatezza a 280 gradi ad esempio impostati e poi viene mostrato il valore in temperatura oltre alla punta già installata ce ne sono altre cinque in dotazione di diverse dimensioni e forme adatte per saldare anche materiali in smd oppure anche materiali di potenza in dotazione sono fornite anche delle pinzette per componenti smd e dello stagno in poche parole fa il suo mestiere con un ottimo rapporto qualità prezzo e con questo termina la recensione sui prodotti gvd a vi lascio il link in descrizione per chi fosse interessato all'acquisto come sempre se il video vi è piaciuto vi è stato utile un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.